Valerio, di nuovo qui da noi con la cronaca in una vasta operazione contro le cosche della Locri dei Carabinieri del Rosso e del Comando Provinciale di Reggio Calabria. Hanno arrestato 108 persone e 85 in carcere, sgominando un traffico internazionale di droga. L'operazione denominata Euro e che ha colpito in particolare le cosche Nirta Strangio di San Luca e Morabito di Africo. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di armi, riciclaggio e favoreggiamento.